Gara 2 dell'International GT Open da Silverson, dove l'acqua di V1 a basse con due Mercedes in prima fila che mantengono il vantaggio dalle qualifiche confronto tra Mulle e Crestani, dalla seconda fila col pilota italiano che mantiene la pole position, il recupero della Ferrari di Bicchia e Bacca partiva dalle retrovie con anche Marco Aciocci al confronto, il testa a coda di Liang per il contatto con l'Audi Reop che manda in testa a coda il pilota cinese di casa Imperiale Svila intanto il gruppone, qui sempre in on board il confronto fra Ferrari, Luzic contro Rinaldi, si anima alla Sto, il confronto invece ancora fra Saravia e Damiano Fioravanti timombra in grande spolvero in questo appuntamento il contatto tra Wilkinson e Lewadowski con il pilota polacco che riesce comunque a mantenere la vettura del team di Vincenzo Sospiri in pista qui il sorpasso, Daniel Serra che verrà poi colpito al posteriore dalla Mercedes di Battista vincitore nella gara di ieri il brasiliano oggi costretto al recupero qui intanto la Bentley che viene superata dalla BMW di Fran Rueda buono il recupero da parte del pilota spagnolo nel finale di gara che chiederà al sesto posto contatto ancora tra Rinaldi e BMW con Lorenzo Baudovega che si deve ritirare in approfitto andremo a termini per sfilare all'interno Valentin Piergore e Tom Ozoncola che vanno a conquistare la vittoria assoluta a Silverstone anche della classe Pro Am, seconda volta che una Mercedes si impone la domenica e non è una scuola che si deve ritirare in approfitto Grazie a tutti.